Sì, era sul treno, la colpa non la devono dare perché il treno stava viaggiando benissimo. Ma cos'è successo? Capito? È successo che era un attimo, abbiamo sentito come un terremoto sul treno, capito? Ma non devono dare la colpa, né il treno, né la colpa di quei furgoni che stavano trasportando un carico eccezionato. Perché loro non hanno visto... Ha attraversato il passaggio a livello? Bravo, lui è passato, il camioncetto c'è va dietro, no? Naturalmente, arriva il treno, puff, ed è successo una coppa da tracca. Lei stava tornando dove? Io stavo tornando a casa e anch'io sono un camionista, capito? E so cosa vuol dire. C'erano tante persone a bordo del treno? Ma non tante, comunque, abbastante, perché noi eravamo lì, appena solito a Milano, non eravamo, ne decina, quindici, invece c'erano altri lì sopra il treno, capito?